Ragazzi Shutter Space, la recensione del DLC di Starfield, tanto atteso, tanto desiderato, soprattutto dagli appassionati di giochi di ruolo, gli appassionati di Bethesda E oggi ve lo racconterò in maniera quanto più chiara possibile, ci sarà anche una piccola sezione spoiler in cui farò spoiler moderati per chiunque non abbia intenzione di giocarlo, chiunque l'abbia già finito E' stata un'esperienza intensa, breve relativamente, perché il DLC nella main quest si esaurisce il 6 ore, più o meno, e se volete dedicarvi ad altro ci sono anche delle quest secondarie Diciamo che la longevità complessiva per chi è abituato e va a ritmi abbastanza alti starà sulle 15 ore per fare tutto 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 tutto, io ho fatto una decina di ore Quindi quest primarie e un po' di secondarie per vedere un po' che aria tirasse e torno da voi con le idee piuttosto chiare E voglio partire da una premessa importantissima Starfield Shutter Space non farà cambiare idea a chiunque abbia giocato l'avventura di base, in positivo e in negativo E' un'espansione in fortissima continuità con l'avventura di base che non va a risolvere nessun tipo di problema preesistente Non va a stravolgere l'essenza della produzione, va semplicemente a aggiungere tanto di più, tanto, una decina di ore di più Affinché gli appassionati possano godersi una nuova avventura, un nuovo contesto, con nuove situazioni Ma quello che ha caratterizzato Starfield è stato riproposto in copia a carbone anche qui E parlo di tipo di scrittura, se non l'avete apprezzato in Starfield base non l'apprezzerete neanche qui Profondità ruolistica e varietà di situazioni E quest design aggiungerei Che non sono stati in alcun modo stravolte rispetto a quello che già si era visto in Starfield Nel bene e nel male Quindi prendete questa come una sorta di riassuntone di tutto quello che vi sto per dire Perché se vi è piaciuto Starfield vi piacerà anche l'espansione Se non vi è piaciuto granché quello che avete visto in Starfield E magari come nel mio caso vi ha suscitato un senso di amarezza rispetto a quello che Bethesda era solita fare in passato Avreste sperato di vederlo qui, beh, non lo vedrete Quindi adesso andiamo al dunque Partiamo dalla premessa narrativa Senza spoiler particolari, se non quello che già si sa Cioè è un'espansione che si basa tutta su Ivarun Quindi una realtà che ci è stata raccontata in maniera anche piuttosto chiara nell'avventura di base E che ha costruito nella mente di molti una certa idea di quello che fossero Ivarun Questa idea nell'espansione non viene in qualche modo rispettata, almeno nel mio caso Io mi aspettavo che Ivarun fossero un popolo estremamente diverso da quelli che avevo visto fino a quel momento Che avessero delle tradizioni molto marcate Un modo di vivere e di concepire la vita completamente diverso da quello delle altre popolazioni viste in Starfield E' vero che in questa espansione ci vengono presentati Ivarun come un popolo molto legato alle credenze religiose Molto vicino all'idea di questa religione Molto marcata, molto presente nella vita di ciascuno di loro Però il punto che mi ha lasciato un po' perplesso è che ci sono degli esponenti estremamente legati a queste credenze Ma poi sono controbilanciati da numerosissimi esponenti dei Ivarun Che invece hanno un approccio molto così dolce e carino e che cercano i punti d'incontro E che ma no ma cosa fai? Ma cerchiamo di trovare un compromesso molto dolci Io mi aspettavo che fosse un popolo in qualche modo molto definito nei suoi tratti In quei tratti che ci sono stati presentati E mi sono scontato contro una realtà che è estremamente simile e comune a quello che Starfield ha fatto già vedere Cioè regna un po' di mancanza di carattere Cioè questo generale appiattimento in termini di scrittura Si riflette tantissimo su questa espansione Perché in questa espansione non hai a che fare con un popolo che ha una sua visione delle cose molto marcata Ma in cui c'è qualcuno che porta avanti questa idea Affinché tu possa percepire che effettivamente è un contesto diverso Ma poi la gran parte della popolazione segue gli schemi di normalità Di qui è tu vivere Anzi addirittura a volte quando ci sono questi esponenti molto più duri dei Varun C'è sempre chi cerca di controbilanciare, di farli ragionare Qualcosa che onestamente non mi sarei aspettato Vi dico la verità Senza contare il fatto che anche qui la premessa è un pochino debole Perché noi veniamo in qualche modo introdotti al mondo dei Varun Dalla prospettiva dell'eletto Anche qui siamo noi che decidiamo tutto, che condizioniamo tutto Veniamo a volte respinti, a volte accolti Ma fondamentalmente il centro di tutto siamo noi E questo è qualcosa che si riflette soprattutto sul finale Dove ci vengono affidate delle decisioni che non dovremmo prendere Che non ci dovrebbero essere concesse sulla base del nulla Semplicemente decidi tu tutto Questa cosa sarebbe già andata in contrasto con l'essenza stessa di un popolo che non si conosce Lo è ancora di più in contrasto con un popolo come i Varun Che vive di tradizioni, di schemi molto rigidi E quindi, però ripeto, ne parleremo magari in maniera un po' più approfondita nella parte spoiler Perché è necessario parlarne in maniera un po' più approfondita Tenza ripeto, sporare troppo però è qualcosa che un po' mi è pesato Quindi diciamo che la scrittura che ne consigo è una scrittura che ha i suoi momenti più intriganti Anche perché appunto le tematiche proposte sono generalmente interessanti Ma che cede un po' sotto il peso di questa normalizzazione ossessiva dei rapporti dei personaggi Sì, ci sono delle quest un po' più dure, specialmente se si va sulle secondarie Ce ne sono alcune che sono molto carine, devo dire, che ci pongono anche di fronte a delle scelte Però spesso e volentieri la durezza di questo popolo Che magari uno vuole provare a far propria, no? Per essere coerente con questo contesto Viene respinta C'è chi cerca di farci venire i sensi di colpa se cerchiamo di essere coerenti con le loro tradizioni E questa cosa mi ha fatto tanto, tanto sorridere Perché dico, ma come? Io sto facendo delle cose coerenti con quello che siete E c'è chi cerca di farmi venire i sensi di colpa Cioè, questa è qualcosa che credo testimoni con estrema chiarezza Il problema del voler normalizzare e appiattire tutto Su una base che non dovrebbe essere così Un gioco di ruolo, dovrebbe avere un po' più di profondità Questa profondità a volte manca tantissimo E ripeto, poi ne parliamo sul finale Perché il finale purtroppo risente in maniera gravissima di questa mancanza di profondità Nella scrittura e nella struttura stessa delle attività Ora, parliamo di struttura proprio Oggi non farò tagli se non sulla parte spoiler Che avrà un capitolo a sé affinché possiate vederla senza rischi Soprattutto per chi non vuole vederla, ecco Allora, in termini di struttura il gioco ha essenzialmente questo schema C'è una missione introduttiva Che è quella che poi avete intravisto nello scopriamo che vi ho proposto Poi ci sono tre macromissioni Legate ognuna a una casata dei Varun E poi c'è una missione finale Questo è lo schema di base A cui si aggiungono poi appunto delle quest secondarie Che potete accettare come evitare liberamente nel corso dell'esplorazione Queste tre missioni principali Che sono il fulcro, l'essenza del DLC Non mi hanno onestamente fatto impazzire Purtroppo Perché in termini di quest design sono estremamente basiche In termini di struttura, in termini di attività Sono molto legate al raggiungi il luogo A E vai al punto B Poi una volta che hai raggiunto il punto B Chiacchiera un po' e vai al punto C Non hanno una profondità particolare Non ti costringono a riflettere troppo Non ti costringono a conoscere troppo del contesto Puoi viverle in maniera molto diretta E hanno una, diciamo, un'enfasi piuttosto marcata Marcatissima sull'azione dura e pura Per quanto ci siano appunto Delle scelte in ciascuna di queste macromissioni Più determinanti Ma queste scelte non hanno poi neanche grosse conseguenze Dopo si esauriscono un po' Nell'evoluzione stessa della singola quest Questa è una cosa che mi ha un po' mancato Anche perché una quest in particolare è stata Un susseguirsi di Vai al punto A Arrivi al punto A Vai al punto B Vai al punto B Vai al punto C È tutta una continua ricerca Che è sembrata quasi un voler allungare La missione artificiosamente Piuttosto che creativamente Questa è una cosa che onestamente Non mi sarei aspettato da una quest primaria Paradossalmente come in Starfield Il divertimento La poesia La profondità C'è più nelle quest secondarie Che in quelle primarie Non capisco perché Perché poi quelle primarie dovrebbero essere La cosa più bella In realtà spesso sono quelle un po' più Che si trascinano Un pochino di più E questo mi è dispiaciuto un po' Perché credo che si potesse Si dovesse fare anche un po' di più In virtù anche delle critiche ricevute In questo senso Con l'avventura di base E non sembra che abbiano recepito troppo Questo tipo di concetto Però ecco ripeto Se vi è piaciuta la struttura Dell'avventura di base La ritroverete Tale e quale In questa espansione E appunto Il finale invece È molto pirotecnico Devo dire Un finale Un po' più appagante Da un punto di vista scenico E di struttura Per quanto sia molto Molto action Il finale Forse pure troppo Per certi versi Però ecco Ripeto È un DLC Che ripercorre La strada Già tracciata Dall'avventura di base In tutti i suoi aspetti Ripeto È qualcosa Che potrebbe piacere Come non piacere In base A come avete ricepito Poi l'avventura di base Adesso Vorrei parlare Visto che ci siamo Addentrati un po' Nelle questioni Di un aspetto Che speravo Potesse risultare prioritario Cioè I companion Io Non vi negherò Che ho passato Qualche Qualche Un'oretta Diciamo Nei giorni scorsi Preparandomi a questo DLC E cercando Di avere Un rapporto Che fosse Neutrale Comunque positivo Con Andrea Lei Come ben sapete Appartiene a Eva Ron Quindi Ci tenevo A vivere questo DLC Insieme ad Andrea E ci tenevo Che lei fosse In un rapporto Stabile Con il mio personaggio Quindi ho dovuto Cercare un salvataggio In cui questo fosse Fosse avvenuto In modo da partire Con il DLC In maniera Positiva E propositiva Perché credevo Che Andrea Avrebbe avuto Un peso Enorme In questo DLC Cioè Si torna A casa sua Mi aspettavo Che lei Reagisse in maniera Particolare A questo tipo Di viaggio A questo tipo Di esperienza Che avesse un peso E che Ivarun Reagissero Alla sua presenza Non è successo Non è successo Nel senso Che lei Ogni tanto Ha delle linee Di dialogo Inedite Legate alla sua presenza E quindi può Influenzare L'esito Di certe situazioni Ma Il contesto Non reagisce Alla sua presenza Cioè Nessuno si rapporta Direttamente con lei Nessuno parla Con lei Nessuno Almeno per quello Che ho visto Fino adesso Nessuno Neanche in queste Secondarie Per adesso In quelle primarie No In quelle secondarie Per adesso Non mi è capitato Nessuno reagisce Alla sua presenza E mi sarei aspettato Qualcosa Così come mi sarei aspettato Che di fronte a dei momenti Particolamente significativi Narrativamente parlando Lei avesse Un impatto Che potesse Farmi da consigliera Per comprendere meglio Il posto in cui mi trovavo Per comprendere meglio Le abitudini Le tradizioni Di questo popolo Che mi facesse un po' Da Virgilio Da Cicerone Invece no E addirittura Dopo la scelta Che si prende Alla fine Lei non ha Alcun tipo di reazione Si comporta Come se nulla fosse Questa è una cosa Che mi ha Totalmente Ridotto L'entusiasmo E mi ha anche Amareggiato parecchio Perché Io non dico Che il companion Dovesse essere Predominante Ma credevo In virtù Della scelta Fatta Dei Varun Che almeno Andrei Avesse Qualcosa di particolare In questo tipo Di contesto E invece È stato fatto Il minimo Indispensabile E questa cosa L'ho un po' Accusata A livello Di piacere personale Perché appunto Mi ero fatto Un po' Il castelletto Di idee Adesso porto Andrea Così Invece È andata Un po' così Detto questo Prima di addentrarmi Nella parte spoiler Due parole Sulla direzione artistica L'ho trovata Generalmente Positivissima Hanno fatto un bel lavoro Sugli scorci L'impatto visivo È un DLC Peraltro che si Racchiude tutto In un ambiente circoscritto Come già avevo anticipato Non si viaggia mai Tra le stelle Ma tutto avviene Nello stesso luogo Dove chiaramente Ci sono vari ambienti Vari contesti Vari strutture Però non si esce mai Dall'atmosfera E questa L'ho trovata Una scelta Positiva Anche perché Si riflette Sull'esplorazione Questo è un lato Assolutamente positivo Invece rispetto All'avventura di base Cioè Shutter Space Riporta un po' Le sensazioni Pagamente Dei vecchi titoli Bethesda Nel senso che C'è un senso Di scoperta Veramente profondo Non ci sono più Contesti proceduralmente Generati E quindi Si vede che Il lavoro è stato Effettivamente fatto Con collisione di causa Le strutture I segreti Le situazioni Esplorare Ha veramente Un senso Superiore a quanto Accaduto in Staff E la vettura di base E restituisce Un maggior appagamento Nel momento in cui Lo si porta avanti Come attività Andare in giro Cioè Avrete veramente Un motivo Per girare un po' E spesso facendolo Potreste sbloccare Queste secondarie E tutto ciò Che ne consegue Per cui È qualcosa che In termini di Filosofia produttiva Riporta un po' Bethesda A quello che era Solito fare in passato Ma diciamo che In generale È un titolo Che purtroppo Per fortuna Non stravolge Troppo rispetto A quello che era Starfield base Però ecco Direzione artistica Assolutamente valida Specialmente su PC Io ho alternato Prima su Xbox E avrete alcune riprese Fatte con la versione Xbox Altre su PC Su PC Chiaramente ha un impatto Completamente diverso Come era per L'avventura di base Su Xbox Ho avuto Parecchi cali di frame Che nell'avventura di base Non l'avevo Riscontrato Qui ce ne sono un po' di più Perché il contesto È un po' più Un po' più ricco Di dettagli Di effettistica Quindi questo un po' Si riflette sulla tenuta Della versione Xbox Però comunque È godibilissima Anche lì Su PC Chiaramente la situazione È molto diversa Come potrete intuire Ma è generalmente Apprezzabile In entrambi i sensi Detto questo Vi lascio alla fase Spoiler Qualora vogliate Altrimenti ci vediamo Sulle conclusioni E sul voto Allora Si parlava Del finale Bene Ragazzi Questo È una sezione Dedicata a Chiuk abbia già finito Il DLC O Chiuk non abbia Tensione di finirlo O di giocarlo Proprio per Inquadrare un po' meglio Queste espansioni Allora Vorrei parlare di una cosa In particolare Il finale Nel finale siamo chiamati A fare una scelta fondamentale Per quello che è Il futuro dei Varun E queste scelte Sono incomprensibili Nel senso Noi veniamo Incaricati Di decidere Non solo La casata dominante Dei Varun Ma addirittura Se far partire La crociata Dei Varun Oppure no Io Ho trovato Questa situazione Surreale Cioè Il fatto che Un estraneo Per quanto funzionale E utile A garantire La sopravvivenza Del loro popolo Venga Caricato Di questa responsabilità È Assurdo Per quella che è sempre stata La scrittura Dei Varun Ma lo è ancora di più Perché C'è stato Ho fatto una prova Come sempre faccio Questi giochi di ruolo Nel senso C'era la possibilità Di dire Ragazzi Secondo me Nessuno di voi È Qualificato È in grado Di portare avanti Questo popolo Di condurlo Quindi secondo me Dovreste Non dovrebbe essere Nessuno di voi tre La scelta Ricadeva Tra tre persone E sono stato E sono stato Praticamente Esiliato Cioè Il non volevo Prendere una responsabilità Ha portato Al mio Al mio Paraesilio Cioè Sei libero di andartene Ma poi se ti rincontreremo Ti faremo a pezzi Allora A quel punto Ho caricato il salvataggio Ho riprovato E questo mi ha condotto E questo mi ha condotto Dopo aver fatto una scelta Fra le tre casate Al dover decidere Se far partire o meno La crociata De Ivarun E questa cosa Mi ha lasciato perplesso Perché purtroppo E qui torniamo All'escorso della scrittura Che facevo Nella parte Senza spoiler Il gioco Non ti permette Di conoscere Così approfonditamente Ivarun E soprattutto Non ti permette Di conoscere Adeguatamente Le tre casate Tra cui sei chiamato Poi a scegliere Cioè Io mi sono ritrovato A un certo punto A dover scegliere Fra questi tre personaggi Che non conoscevo Se non quello Che ti introduce Ivarun A inizio DLC Che poi è quello Che ho scelto Perché è l'unico Che conoscevo In un certo modo E ti costinge a scegliere Ma tu non hai Alcun tipo di trasporto Emotivo Verso nessuno dei tre Non hai alcun tipo Di coinvolgimento Non hai alcun tipo Di partecipazione Non hai alcun tipo Di conoscenza Per fare una scelta Che sia realmente Consapevole E funzionale A dare a Ivarun Un futuro Lo so che è un gioco Però nel senso Se uno vuole entrare Un po' nella Componente dell'oliste Che dice ok Io adesso voglio fare La scelta migliore per loro O quella che reputo Migliore secondo me Addirittura c'è stato Un momento in cui Era possibile scegliere Di diventare Colui che avrebbe dovuto Condurre Ivarun E mi hanno praticamente Riso in faccia Allora tutto questo Fa completamente Crollare La profondità Rolistica Di un gioco Come questo E banalizza Certe situazioni Che invece Banali non dovrebbero essere A un certo punto E qui faccio un passo indietro Nella Nella missione finale Potevo decidere Se arrendermi E quindi Prostrarmi Abbandonarmi Al volere Del gran serpente E se scegli di farlo Il gioco Ti carica Il salvataggio Appena precedente In modo che tu Possa fare una scelta Diversa Cioè non è La scelta Non è sostenuta Da una scrittura Da una struttura Tale che possa portarti A delle conseguenze effettive Sulla base Della scelta fatta E anche questo È un elemento Che onestamente Mi ha lasciato un po' così Perché il pensiero è stato No è piuttosto Non darmi questa scelta Se tutto ciò Che questa scelta comporta È un inginocchiamento E subito dopo Un caricamento Per fare una scelta Differente Non lo so Mi è veramente Mancato Tanto In questo DLC Per godermelo E ripeto La scrittura Purtroppo Non è Non è minimamente Sufficiente Per sostenere le scelte Che siamo chiamati a fare In più di un'occasione Spesso si fanno scelte Sulla base della pancia Del momento Sì questo mi sta simpatico Vabbè facciamo così E cavolo Bethesda ci ha abituato Ad altro Ci ha abituato A ben altro A cose molto più profonde Ci ha abituato A fareci Prendere delle decisioni Dopo averci preparato A quelle decisioni E purtroppo Non è successo Quindi Non lo so E poi ragazzi E con questa clip chiudo La cosa divertente È che io A un certo punto L'ho fatto partire Questa crociata Il mio primo pensiero È stato cavolo Adesso chissà Andrea Cosa avrà da dire E questa è stata La reazione Di Andrea Concludendo ragazzi Shattered Space Si è dimostrato Un DLC Assolutamente in continuità Con quanto visto Nell'avventura di base Nel bene Nel male Credo che chiunque Abbia apprezzato L'avventura di base Si godrà Che questo DLC Chiunque non abbia apprezzato L'avventura di base Non cambierà idea Grazie a questo DLC Un DLC Che ha i suoi spunti I suoi momenti Intriganti Ma che purtroppo Non offre una scrittura Sufficientemente profonda Per rappresentare Uno stimolo reale Agli appassionati Di giochi di ruolo È un'espansione Che verte molto di più Sull'azione Che sulle scelte E il fatto che Molte scelte Non siano strutturate In maniera tale Da dare reale valore A quello che poi Si decide di fare Nel senso che Spesso i volentieri Si è chiamati a fare Delle scelte Che non si è pronti a fare A cui non siamo stati preparati Rende il tutto Purtroppo Un po' più banale Di quanto ci si aspetterebbe Da un prodotto Bethesda Per cui è un'espansione Onestamente un po' deludente Dal mio punto di vista Che per me Si assesta su un 6,5 Figlio di alcune buone idee Ma che purtroppo Cede sotto il peso Di una scrittura Davvero troppo superficiale A tratti E di una totale mancanza Di profondità Rispetto alle premesse Ai presupposti Che il gioco aveva costruito Con l'avventura di base E che non sono stati In alcun modo soddisfatti In un'espansione Che avrebbe dovuto Rendere i Varun Qualcosa di epico E memorabile In realtà Quel che resta È una popolazione Con qualche pazzo In mezzo Con qualche estremista Ma che In generale Non fa respirare Quella Quella rigidità Quel rigore Quella Quella durezza Che credevo Aver ritrovato A casa dei Varun Per cui ragazzi Niente Questo è quanto Lo so Io forse Sarò molto Severo Quando si tratta Di giochi di ruolo E quando si tratta Di componenti ruolistiche Ma quando si parla Di Bethesda Non riesco a essere Particolarmente Come posso dire Particolarmente Poco esigente Ecco Credo che Bethesda Ci abbia abituato Ad essere esigenti E adesso Ovviamente Non si possa fare a meno Di constatare Che 30 euro Per un DLC Come questo Forse Sono un po' tantini Per cui ragazzi miei Fatemi sapere cosa ne pensate Ovviamente La discussione è aperta A chiunque Se volete spoilerare Specialmente Per quanto riguarda Alla sezione spoiler Fatelo Dopo aver scritto spoiler Lasciate un paio di righe Di spazio E poi Vi lasciate andare A qualsiasi tipo Di riflessione vogliate Parliamone Io vi mando un abbraccio Ci vediamo alla prossima Grazie